L'amore e la fratellanza vincono l'odio, le parole del Papa pronunciato incontrando l'Istituto europeo di studi internazionali di Salamanca, iniziato il viaggio apostolico in Africa. Monsignor Pier Battista, pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha tenuto un incontro a Cerignola per parlare di perdono e pace. Sarà attivo da domani il reparto di ostetricia dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie, inaugurato oggi dopo i lavori di riqualificazione. A Biceglie la due giorni, dedicata alla comunicazione e al giornalismo, celebrando la radio, con speaker and speaking sul palco le voci radiofoniche più famose. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. È cominciato questa mattina il nuovo viaggio apostolico di Papa Francesco, destinazione Congo e Sud-Sudan. Un viaggio di grande importanza simbolica. Intanto, alla vigilia della partenza, il pontefice ha ricevuto in udienza l'Istituto europeo di studi internazionali di Salamanca ed ha affermato l'amore, la fratellanza e il vero umanesimo che nasce dalla fede, vincono l'odio, il rifiuto e la brutalità. Anche quando il conflitto sembra far vincere l'odio sull'amore, è lì che bisogna apportare soluzioni, unire volontà, dando così il proprio contributo per costruire la pace. Lo ha detto il Papa, ricevendo in Vaticano una delegazione dell'Istituto europeo di studi internazionali di Salamanca. Il pontefice poi ha parlato dell'importanza di questa pace, del fatto che essa va dal di là di ciò che è possibile tenere con mezzi meramente umani e di come sia un valore universale, un bene essenziale per gli uomini di ogni tempo. Una pace non può essere confinata alle sole logiche di potere. Questa, infatti, ci interpella anche affinché non si basi semplicemente su equilibri di potere o sul silenziamento delle giuste domande dei meno favoriti. Non di meno la pace tra gli uomini è un bene essenziale per il quale dobbiamo lavorare con zelo e supplicare con fervore Dio. Inoltre Bergoglio, ancora una volta, ha ricordato come lo scorso secolo sia stato caratterizzato da due conflitti mondiali e quella attuale che è una guerra mondiale. Da Francesco è giunto poi un forte appello alla coscienza di ogni uomo perché non si senta vinto davanti agli orrori della guerra. Il fallimento del conflitto può così diventare una lezione di vita. La guerra è terribile ma ci porta ad una sfida, quella di operare affinché l'amore vinca sull'odio, la fratellanza sul rifiuto, il vero umanesimo sulla brutalità. Dalle ceneri della guerra può nascere qualcosa di nuovo. In questo fallimento possiamo trovare una lezione di vita. E oggi in occasione della giornata dedicata a San Giovanni Bosco, la nostra emittente trasmetterà un documentario alla scoperta dei luoghi benedetti da Dio. Valdocco, a Torino, è il luogo di San Giovanni Bosco. Lì tutto è nato nel XIX secolo e lì ancora i salesiani svolgono la loro missione. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 17, quando andrà in onda il documentario realizzato da Alba Di Palo e Sebastiano Ursi. A Cerignola, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha tenuto un incontro per parlare di perdono e pace. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Luca Ciciriello. In realtà il suo è stato un ritorno. Il 2 dicembre 2006 fu invitato a Cerignola in occasione del decennale della delegazione locale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Questa volta Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha parlato di pace e perdono nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, a Cerignola. La pace ha bisogno di riconciliazione, significa ricomposizione delle differenze, superare l'odio e tutto questo è possibile solo se c'è un desiderio del cuore di andare oltre, cioè di perdonare, che non significa giustificare o dimenticare, significa semplicemente non permettere che il dolore e il male determinino la tua vita. Qual è il valore della Terra Santa per i cristiani? La fede cristiana è una fede storica. Noi crediamo nella rivelazione, un Dio che si è fatto carne. Non c'è vento senza luogo. Per noi la Terra Santa significa toccare l'esperienza della fede e dell'incarnazione. Obiettivo della presenza del patriarca Pizzaballa nella comunità diocesana e parrocchiale, la volontà di sensibilizzare all'amore per la Terra Santa e sostenere quei cristiani che lì custodiscono e conservano, seppure con notevoli difficoltà, i luoghi nei quali è vissuto Gesù Cristo. Eccellenza, il valore di queste testimonianze per la comunità? Preziosissimo, preziosissimo, perché noi dobbiamo avere sempre a cuore la Terra Santa e che venga proprio il patriarca in persona a portarci queste testimonianze è un dono straordinario per Cerignola e anche per me personalmente. E poi anche il valore della pace? Naturalmente è una scuola continua che noi dobbiamo fare. E lì è una situazione tale che continuamente bisogna reimparare come si fa a costruire la pace. L'attenzione verso di loro diventa anche per noi educativa. Con la violenza non si costruisce niente. Il perdono, la riconciliazione, l'attenzione al reciproco, la cura. Solo questo può aiutarci a camminare veramente da esseri umani prima che da cristiani. Ad Andrea le apostole della vita interiore hanno incontrato un gruppo di fedeli. Sentiamo. Sono donne consacrate che dedicano la vita a Dio attraverso la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza. Vivono in comunità e hanno la preghiera al centro della loro giornata. Stiamo parlando delle apostole della vita interiore, la cui missione è evangelizzare alla formazione e alla direzione spirituale. Il cuore del loro apostolato è la relazione personale. Infatti raggiungono donne e uomini nei loro ambienti e bisogni, come hanno fatto Tiziana e Loredana, che hanno incontrato un gruppo di fedeli andriesi. Perché è importante l'incontro e l'ascolto delle persone? Perché da ogni persona impariamo tante cose, ogni persona è l'immagine di Dio e quindi ci comunica Dio. Il vostro non è soltanto un incontro digitale ma anche reale. Sì, abbiamo tanti incontri, colloqui personali, incontri anche con i catechisti, incontri con i genitori, incontri con i ragazzi, incontri all'università, incontri occasionali. Per esempio andiamo alla Sapienza, ci fermiamo sui muretti, sulle panchine e iniziamo a intavolare un discorso con i ragazzi. È sempre incontri personali che sono molto arricchenti. Il brano del Vangelo che ispira maggiormente il loro carisma è quello legato alla Samaritana, che incontra Gesù a tu per tu al pozzo e non può fare a meno di lasciare la sua giara e andare subito ad annunciarlo agli altri. Quale messaggio portate oggi? Il messaggio è quello di ascoltare il Signore e ascoltando ci sentiamo anche capiti da Dio e nello stesso tempo abbiamo la possibilità di amare, amare, perché solo così possiamo essere felici. Che cosa emerge dai vostri incontri? Emerge una sete di felicità, una sete e anche tanta insicurezza, tanta paura e tante crisi. Infatti proprio oggi leggevo che 13 milioni di italiani in un anno vanno dai maghi, quindi questo vuol dire proprio l'insicurezza, uno che cerca di aggrapparsi da tutte le parti. E allora come superare queste insicurezze? Noi tante volte pensiamo che il contrario della fede sia l'ateismo, no? Il contrario della fede è la paura. Più cresciamo nella fede, più diminuisce. Sono inversamente proporzionali. Si è discusso dello statuto antropologico dell'embrione a Trani in un incontro organizzato dalla società Dante Alighieri. Alba Di Palo. Affermare la piena dignità dell'embrione e il suo diritto a essere tutelato rimandando al suo valore antropologico e intendendolo in senso ampio riferito alla nozione secondo cui dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano. Tematiche teologiche ed etiche affrontate a Trani in un incontro organizzato dalla società di studi Dante Alighieri. Capire che cos'è l'embrione umano. È un semplice oggetto biologico, possibile termine di manipolazione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, sopprimerlo, utilizzarlo per gli esperimenti oppure ha una dignità personale e quindi va rispettato a pieno titolo come una persona. L'obiettivo diventa contrastare la cultura dello scarto facendo prevalere la dignità e il valore della vita. La vita umana pur avendo il dubbio sulla personalità dell'embrione bisogna trattarlo, dice il documento Donum Vite, come una persona. Il documento magisteriale non afferma che l'embrione è una persona. Il dubbio in teoria può esistere però nella pratica bisogna agire come se l'embrione umano fosse veramente una persona. Aggiornamento Covid, adesso come sempre diamo uno sguardo al bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati processati 8.520 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 417 nuovi casi di contagio, 7 i decessi. I casi attualmente positivi sono 15.227 mentre 220 sono le persone ricoverate in area non critica Covid e 9 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 9.559 in totale le persone decedute in Puglia. Inaugurato questa mattina il rinnovato reparto di ostetricia dell'ospedale di Biceglie. Il reparto completamente ristrutturato e riqualificato sarà attivo dalle ore 8 di domani, primo febbraio. Francesco Rossi. A giugno del 2022 sono stati attivati i lavori di ristrutturazione dell'intero reparto, quindi sia le stanze di degenza ma anche le sale parto. Abbiamo 17 stanze di degenza interamente rifunzionalizzate, due sale parto di cui una pressione negativa che quindi consente anche un percorso differenziato per il paziente Covid e una sala travaglio, quindi ambienti interamente rifunzionalizzati che con i colori e con le luci ci consentono anche di rendere l'ambiente più confortevole per le donne che vengono qui e che in un momento delicato, come appunto quello del parto, possono così essere accompagnate ad un parto naturale e sereno. Sale nuove, accoglienti, moderne e soprattutto la città di Biceglie ha l'orgoglio di poter di nuovo presentare un punto nascito importante e quindi rispettare quella che era una tradizione ormai perché il punto nascito di Biceglie è sempre stato un punto di riferimento, così come questo ospedale che torna ad essere finalmente un ospedale che ha tutte le caratteristiche per essere di primo livello ma soprattutto un ospedale moderno, accogliente e ottimamente diretto. generale della ASL che prese un impegno che ha mantenuto col direttore dell'ospedale oggi. benedica il padre del figlio e dello spirito santo. Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 si registra la percentuale di bocciature più elevata tra gli studenti del primo anno scolastico delle superiori. Lo rilevano i dati diffusi da Save the Children. Damiana Dorotea Sgaramella. Nell'anno scolastico 2021-2022 è stata registrata la percentuale di bocciature più elevata tra gli studenti del primo anno scolastico delle superiori, stimati in circa 40.000 studenti. Sono questi i dati diffusi da Save the Children. Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle superiori è un momento cruciale per i ragazzi che rischia di far accrescere la dispersione scolastica se non opportunamente considerato. Dall'analisi è emesso che per gli anni di frequenza successivi la percentuale dei respinti tra l'anno scolastico 2020-21 e quello 2021-22 si è ridotta, mentre la quota di bocciature per chi ha frequentato il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado è cresciuta di un punto percentuale. Il cambiamento di scuola, delle metodologie di studio e soprattutto la delicata fase adolescenziale sono tra le principali cause che possono incidere negativamente su questi dati. Per questo, dichiarano da Save the Children, è essenziale un inter di orientamento di qualità per accompagnare le scelte scolastiche degli studenti, prevenire gli abbandoni e sostenere la motivazione. In questa direzione vanno proprio le nuove linee guida per l'orientamento varate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito dell'attuazione del piano ripresa e resilienza, che rappresentano un primo passo verso un pensiero più critico dello studente, il coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità degli educatori. E infine, per consentire una concreta inversione di rotta, sono necessari dei percorsi di orientamento che prevedano attività di informazione e formazione sui servizi e le opportunità che l'ente pubblico può offrire agli studenti, per garantire loro il diritto allo studio con un occhio di riguardo a quelli meno abbienti. Si è svolto a Bisceglie Speaker and Speaking, il festival dedicato alla comunicazione e al giornalismo, che ha colto le innovazioni del mondo radiofonico. Il servizio di Alba Di Palo. Trovare un canale di comunicazione capace di attrarre ed esaltare le menti dei più giovani, usare uno strumento ormai storico ma sempre in trasformazione attuale per stabilire un contatto con i ragazzi che stanno crescendo, che si stanno formando e che sono in evoluzione. La radio, il suo presente e il suo futuro, sono stati al centro di uno degli appuntamenti del fitto calendario di Speaker and Speaking. Il festival di giornalismo e comunicazione che a Bisceglie ha ospitato anche le voci radiofoniche note o in crescita, trasformandorle in volto. Storie narrate davanti a un microfono, diventato sinonimo di bellezza, come Radio Panetti, dell'omonimo istituto scolastico di Bari che ha innovato il modo di insegnare. Il segreto qual è? Ascoltarli, entrare in relazione con loro, capire quali sono i loro interessi, farli capire che c'è anche un'altra proposta e entrare in dialogo. Nella idea di una costruzione del sapere che non è più un sapere dogmatico, ma è un sapere che si costruisce anche perché loro hanno l'accesso diretto per esempio alla rete e quindi alle informazioni, allora il ragazzo si motiva, capisce che può essere protagonista dell'apprendimento e crea quella sintonia meravigliosa che si crea tra docente e discente che è di autoapprendimento. Io insegno qualcosa a te, tu insegni qualcosa a me. La radio a scuola, la voce come strumento tra i banchi, sono diventati anche motivo di scelta scolastica. Radio Panetti è un po' la mia seconda famiglia, infatti da cinque anni che frequento questo fantastico progetto del nostro istituto, il Panetti Pitagora di Bari, si è creata una nuova famiglia dove io con tutti i ragazzi, ma anche con i professori, posso confidarmi e soprattutto imparo tantissime cose ogni volta che ci incontriamo, anche quando facciamo questi eventi come oggi a Speaker in Speaking, è un modo per crescere. Hai scelto questa scuola anche per questo progetto? Anche per questo progetto, io ricordo benissimo quando ho visto l'open day del Panetti, ricordo di essere entrato a Radio Panetti mentre facevano uno dei format che più mi piace, che si chiama Il mondo in tasca dove diamo notizie divertenti dal mondo e io ho detto no bellissimo questo lo devo fare, infatti poi mi sono iscritto al Panetti. La scuola diventa così un'occasione unica di crescita per alunni e insegnanti. Da loro io imparo che cosa? Intanto la loro mentalità, perché se io pensassi di sapere già tutto bloccherei già un dialogo in partenza, invece mettendomi appunto in ascolto di quello che loro hanno da dirmi, io imparo tantissimo anche la modalità di approccio che devo avere nei loro confronti e quindi vado a modulare la mia azione didattica in basso a quello che loro mi restituiscono. E quindi il ruolo dell'insegnante diventa anche quello di mediare le conoscenze e far capire che il futuro è un'opportunità, non è qualcosa di negativo che noi dobbiamo temere. E' cominciato il nuovo corso del Comitato Feste Patronali di Molfetta. E' stato eletto infatti il nuovo presidente Vincenzo Germinario. Il servizio. Vincenzo Germinario è il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali di Molfetta. La nomina è arrivata lo scorso 5 gennaio da Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, per poi ufficializzarsi l'11 gennaio. Questa città merita, merita fare feste locali, merita tanto perché è una città piena di lavoratori, di gente onesta, gente brava. Perché dobbiamo abbandonarla? In questo modo con i festeggiamenti, con le feste si vive insieme. Noi vogliamo, con il gruppo degli amici che ho costituito per questo comitato, vogliamo fare qualcosa di semplice. Tirare le vecchie tradizioni, riscoprire le vecchie tradizioni in modo che la gente si ritrova, la gente parla, si situa insieme a festeggiare. Questo serve, secondo me, anche per migliorare la cultura di una persona. Il comitato, preseduto da Germinario, coadiuvato da Francesco Sancilio, vicepresidente, e da Don Pasquale Rubini, parroco della cattedrale di Molfetta, porterà avanti i lavori già eseguiti dal presidente uscente, Leonardo Siragosa, seppur apportando numerose novità. Una frattante il coinvolgimento dei ragazzi più giovani della città. Riprendiamo quello che di buono è stato fatto, continueremo ad andare avanti, sempre nel segno della tradizione, del folklore, di cui la nostra festa è piena. E perché no? Allargarla, infatti intendiamo aprire sicuramente a tutte le associazioni molfettesi che vorranno affiancarsi nel proporre delle attività collaterali che possano in qualche modo collegarsi alla festa, a partire anche dal San Corrado di febbraio oppure a quello di luglio o addirittura alla festa di settembre. Quindi le porte sono a parte a tutte. Cercheremo di fare del nostro meglio sicuramente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.